Mi chiamo Filippo Vignato, sono originario di Tiene, in provincia di Vicenza, ma attualmente risiedo a Mestre, a Venezia, e dopo varie peregrinazioni in giro per l'Europa, diciamo, sono ritornato lì. Io mi chiamo Camilla e vengo da Garda, provincia di Verona. Io ho un background musicale, essendo musicista, suono il trombone, scrivo musica e improvviso musica anche, e il mio background è sia un background accademico, quindi di studi musicali insomma seri, ma quello che ho imparato di più è stato suonando con gli altri musicisti insomma nei palchi. Io ho un percorso accademico sia in Italia che all'estero, mi sono diplomata alla Paolo Grassi di Milano, poi a Parz Academy a Bruxelles e ho fatto anche l'Accademia di Belle Arte di Brera e poi da lì ho un background più da coreografa che danzatrice per altre compagnie. Qui al Garage Nardini stiamo lavorando sulla nuova produzione che si chiama Golden Variations, è un tributo al jazz e alla composizione coreografica che meglio si può associare a questo tipo di ambito. Qui al Garage Nardini siamo io e Filippo, Filippo ovviamente è il musicista, io la coreografa ma sono anche all'interno del lavoro come danzatrice assieme all'altro danzatore Pieradolfo Ciulli. Allora le tre parole chiave che possono essere associate al lavoro, beh senz'altro composizione poi minimalismo, ok e jazz. Il nostro sharing sarà il 30 maggio alle ore 21 al Garage Nardini.